Mi chiamo Manuela, frequento questo centro da circa un paio d'anni. Ho provato un po' di cose, tra cui ho fatto le mani, i piedi, il viso, i massaggi, eccetera. Principalmente la cosa fondamentale che mi sono trovata benissimo è stato il T-Shape lo scorso anno e quest'anno ho voluto provare l'InfraBaldan perché mi incuriosiva questa sorta di bicicletta con i raggi infrarossi. Sono contenta e soddisfatta di questo percorso anche perché non me ne sono accorta solamente io dei miglioramenti che ho ottenuto, ma anche i miei amici e i miei familiari hanno notato questi cambiamenti soprattutto nel fatto che mi sono sgonfiata e dimagrita. Ho perso, se non sbaglio, 5-6 kg, non mi ricordo, però mi ha fatto benissimo per tante altre cose. Prima di tutto ho cambiato alimentazione, ho trovato i giovamenti, soprattutto i capelli. Io avendo dei capelli molto fini, mi crescevano poco e li perdevo. Non perdo più un capello, quindi sarà questo, sarà anche l'alimentazione cambiata. Poi ovviamente la tonicità, la pelle. Per quanto riguarda sia il T-shape che l'InfraBaldan, mi sento di consigliarlo sia a coloro che devono perdere un po' più di chiletti che a quelli che ne devono perdere meno perché effettivamente trovate benefici. Trovo che tra le ragazze c'è una buona collaborazione, c'è interscambiabilità dei ruoli e non ho mai dovuto attendere più di 2-3-4 minuti per il mio appuntamento, quindi sinceramente è un centro che consiglio vivamente a tutte.